Salve a tutti amici e ben ritrovati, io sono Smith Terry ed eccoci qui, per noi sono di Crusade Kings 3 Siamo andati qui con il nostro caro imperatore Luis V di Spagna, pronto a continuare l'avventura di Enna Allora il nostro 34enne Luis è messo malaccio e che è malato e un tipo del Crusade quindi già ha un po' di problemi personali Poi è anche molto stressato, dobbiamo cercare un po' di sistematizzazione In tutto però i nostri figli sono messi in break, uno è re d'Italia e contro la Lombardia Grazie anche a quelle civili che si apprende a questo territorio E un altro figlio invece controlla la Britannia Poi abbiamo questo figlio che forse non è il nostro infatti, non è il nostro figlio Ma le prime venite di nostra moglie, ne ho avuto anche forse un'altra moglie Lei ha avuto un altro marito, maledetto, e io solo lei ce l'ho avuto però, perché sono più fedele Comunque, questa volontà è stata l'avventura di oggi e... Le idee sono tante ma non so davvero dove poter agire Allora abbiamo una gestione, grazie ad un sacrificio che non faremo mai Perché noi siamo cattolici, per favore, non posso fare queste cose Poi abbiamo fazione pericolosa Io non ho un'erede che è della mia famiglia Perché appunto, questo è il problema Che in pratica, ho fatto un matrimonio matrimineare Con l'imprescia Cattelina E mi ha portato a vedere le figlie Non sono quelli ingidole Però ho citato un po' tutto E che poi ho fatto un matrimonio matrimineare Con Carling Stainless Che dove essere questo qua mio zio Quindi è una buca cosa E quindi si ritornerà un poco ai fasti in un tempo Vediamo un poco Vabbè sì, fazione pericolosa Questa è una fazione pericolosa C'è lei che vuole torno di Westfrancia Lei che era, mi sembra, il re di Neostria Che gli ha tolto il titolo Perché mi ha rotto le scatole E che mi ha tolto il titolo a lui A questo che mi vuole tanto bene Ho un froi di Borgogna Spesso con mia zia Mi posso dire mio zio E una reide che ha dei buoni tratti Anche se è un po' fornificatore Poi l'altra pericolosità è questo Ma qui chi ci sta? C'è il re di Neostria Che mi vuole bene Poi il re di Neostria Il sultano andaluso Di Hachaminta Mi ha conquistato noi Il re della storia di Tura Cioè io sono grande Tu mi fai questo Poi due di Borgogna Il re di Regine di Galizia Borgogna dei tutti E il re di Navarra C'è un po' di problemi Non abbiamo Ah poi anche Quei si valua E non si vassa Gli stessi E allora ho dovuto Cercare un migliore Rappunto con lui Che è quello più forte Lui cosa vorrebbe? Il conto La contena di Lombard Lombard E chi ce l'ha? Scusami Cioè è lui Che appartiene a questo Di qua Io lascio la guita E non può essere Io non posso Magari vassarlo Se è possibile E tiranniamo C'è lo faccio Anche stressato Ma lo facciamo E così qua Mettiamo play E' nostro Penso Se accetterà E Ho giusto il colo stress Perfetto E sono Sessato Trovelo due Pericolosissima Questa cosa Cioè devi fare qualcosa Per il gran giro Non ce l'ho a fare Festa neanche Che sono un evento E anche caccia Perché sono un evento? Che sto facendo io? Lascio una reclusività E mi basta lo stress E poi a re di equitane Gli diamo Grant title Scusami Grant vassal Ho sbagliato Grant vassal Tac Lombard E così lui è contento E l'abbiamo sistemato lui Lo square Ma c'è il papa Perché la sua è sul papa? Non mi ricordo perché Su l'imperatore d'Italia E tanto che ho un gioco E non mi ricordo cosa dovevo fare Abbiamo potuto decidere cosa dovevo fare Quest claim su Irlanda E mi mancano controllo della merce E anche i soldi e la pietà L'anusità non si può fare Mi assieme ai corone Lasciamo stare Fond holy order Perché già l'avevo fatto mi sembra Quindi alla fine Non so che Sono sue sul papa A questo punto puntiamo Una fazione pericolosa Dove mi vuole bene E lui è il 25.4% Della fazione Cioè è Un quarto E poi c'è lo venire Non so che è pure pericoloso C'è uno sway su di lui O gli do un regalo Quanto è il regalo? No C'è uno sway che i soldi ci serviranno E io sono shy Mamma mia Sono shy Ma non ci regalo Perfetto E io sono pure shy Ecco che sono stressato Ok Sono sempre a livello 1 Manco sia al massimo E io cerco ancora di abbassare tutto Ah io sono in preghinaggio Ok Sono tornato a preghinaggio E non posso Mancosa devo fare la festa Possiamo chiuscire noi stessi Per prestigio Ma siamo stress Di tanto Sa fazione come sa fazione E' sempre più pericolosa E' sempre più pericolosa E lui non mi vuole bene ancora Sicuramente io dove è che? Io ho tolto Perché tu mi odi? Scusami Offensive war E che vuole ho conquistato Lui mi odi invece Absolute cronaturity Sarese cose Short rem Che il turno è molto Cioè è stato in un regno molto breve Non male E allora prima di fare le guerre Aspetterei Perché se faccio guerre Quelli mi attaccono sicuro Lo so Ho un'altra perché Instruirci Perfetto Dammela Andiamo a Consiglio l'opinio Più venti Questo è buono Qua ci dà Più soldi E più leve Ottimo direi Grande amministratore Montiamo così Noi manco un ingo di 80 Splendosa cosa Tanti clemanti Manci tre Perdo questo titolo Perché? Perdo il titolo Lui è conto i lig È suo figlio Perché lo perdo? Bah Ce ne va a comprire Poi controllo Royale Godor E champagne E Jeanville pure Cioè è pure mio? No Qua c'è lui Che però è estremamente potente Dovendola qualcun altro Magari Qualcuno che non sia Si potente Your cousin Siamo a lui però C'è felice Io poi sono stato malato Perfetto Sono figlio di me E allora E allora Il concilio lavora Diplomatic Lui è Ho un focus Su intrigo Però Adesso Faccio La cosa Che Il punto Fatto è l'oro Mi era Problemi Quindi Andrei Su Sì qua Adesso del Reame Qua Lavorami Armagnac Qua Ci metti a Tortoli Ok Vedete Quando tu Scegli Una cosa Che Meno piace Al Potremmo invitare Nella festa Ma Ci da Così qua Più Che è Terribile Veramente E allora Andiamo Alla nostra Cara Cagliari Che ci da pochi soldi Perché Il controllo Basso Ma come se Costruire Altra level Upgrade Va bene E poi Anche a Parigi Cagliari C'è Abbiamo L'argenteria Che lo so Ancomi a orare Poi facciamo L'argenteria L'argenteria Grande 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 Mentre a Parigi E Acqua Con Enrico Poi Parigi E Alzo Da fare Sempre le Barracks Un po' Great Questo Mi Inconcilere Più Sulle Nostre Capitali Sono Due Capitali Lui È presente In Prigione Lo Facciamo Well Done Ok Lui È contento Lui Va in Prigione Chi È Arrivato Questo È Questo Invito Ecco Vedo Stato Che Sono Shy Non va Bene Dex Isgo Prendi Questi Soldi E Fai Il tuo Meglio Perché Lui A fine Di Lavorare Lui Mi Da Cento A meno Mi Entro Un po' Di Soldi Lei Vuole Un Posto E Chi Tolgo Magari Lui Geoffrey Che È Il mio Cavale De Penso Lei Buona Di 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 Prince Charles Come Sei Nessato Tu In Marcella Meglio Di Lei Anzi Meglio Di Lui Addirittura Quindi C'è anche Il Rete A Borgonia Che Ha Un 32 Mamma Mia Quanto È Forte Lui E Prince Charles È Duca Di Essex No Lo stesso Alla Fine Non Non Fa Più Di Tanto Mettiamo Allora 13 Per Favore Si Bene Come Controllo Diciamo Charles Che 15 Nessi 13 No Mettiamo Lui Qui Swipe Up E Mi dispiace Averte Amico Mio Ma Deve Andare Mi dispiace Ma lui Comunque Contento Lei Un po' Più Contenta Va Bene E Allora Ci Stiamo Stiamo Un po' Sassone Nel Nel Regno Per Avere Un Maggiore Controllo Però Non ci Stiamo Andando Bene Come La Cultura Stiamo Checcando Man At Arms Ci Sta 12 Anni 118 Anni Questo Quindi Pensiamo Su Questa Via 11 Anni Ok E Lui Capo Della Famiglia Federico Duco Di Verona Un solo Duco Verona E Capo Della Famiglia Della Cultura Francese Ah Perché Non ci Salpino Francese No French Ah Perché Il capo Della Cultura E Lui Ci Salpino Per essere Differente Penso Lui Sto Migliorando Molto Bene E Allora 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 Visto Che Stiamo In un Professione Come Ammessa Ok Si Abbassé Calmata Io sono Direi Di fare Guerra Un po' Allora Con Girona E Contegirona 90 No C'è un 90 Poi Sardana Declare War Contegirona Di 90 E Barcellone L'omocione Lui E No Solo Questo De Euro No Tutto 1540 E Per Duca 154 Di Pietà Però Pietà Vorrebbe Servire Per Altro Quindi No Facciamo Pietà Dai Ok E La Guerra Inizia Signori Miei E Iniziata E Partiamo Da Carcasson Qui Nella Punta Guarda Di Cine Pirenei Io Voglio Fare Solo Local Army Non Non Ce Farò Mai Non Vedo Dove Sono Le Cluppe Migliori Qui Sono Tantissime Addirittura Dove Sono Diciamo Termine Assedio Ancora Non c'è Non so che Siamo qui Termine Assedio Penso No Tu No Può Che Tu Più Prende H5 Posto Lì Allora Qua Sono Nella Assedio Ok E Altra Miserie Abbiamo E Perfetto Ok La Blocchiamo Sotto Di 47 Blocca Disband Disband Pure Questo Tu Blocchi E Vai Qui Mentre Sì Qua E Qui Sì Qua Li Togliamo Tutti 5 Se Non Mi Interessa Ok E abbiamo Così Oh Dei bloccare Quello Dei bloccarti Tu Fermati Ok Tutti Fai Bloccato Ok E Sono Sì Almeno Più 10 Stress Lui è pure Mio parente Mi sembra No Non è mio parente 5 stress 10 stress Facciamo questo Vai E Allora Non tu a cavo Mettiamo Comprani Assedi E Mettiamo Questo di qua C'è Comprani Assedi No Fanno tutti Un po' Cagare C'è L'Iborgogna Lì Possono Togliere Lui Mettiamo Comprani Assedi Il favore Dov'è 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 Non c'è nessun Ressere Incredibile E quindi ragazzi Partiamo a girone Barcellona sta qui Come Barcellona Come esercito Ha 2003 Quindi magari Un esercito forte Molto forte Lo Potremmo andare A fargli male Vai No Perché Solo tu Muoviti No Per forza Dobbiamo dividere Il club Ok Per forza Dobbiamo dividere Il club Qui Battiamo a questo E col bambino Che perde Cominciato Per Gerusalemme Ok Il fatto Deve essere Forse un po' Meglio Allora 4 e 9 Solo Solo tu Tu vai qui Ok E tu Voi A picchiare Loro Mettiamo anche Un Beneficiario Your prisoner Mmm Sai ma Your cousin Invece No scusa Scusa Cambia 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 Posso togliere No Lei come è messa Lei Ha esposto con lui In via Matrinare Perfetto Ha delle figlie Femmine Non si vede male Come cosa Mettiamo lei Nella Il gino Deve saremmo lei Posso lui Come dover avere Più Cioè Oltre Penso sia Due modi Per avere Una di molte Corone Come c'è scritto Nella linea La decisione Uno Fare molte Cusciate Avere quindi A questa data Fare molte Cusciate E mettere Molti Familiari Sui troni Di vari Regni Infedeli Diciamo così No Facciamosi qua Così Apri il conto Non interessa L'altro Potrebbe essere Fare tante reazioni In cui noi Diciamo mettere In piccoli Regnetti O anche piccole Diciamo Ducati Non so se Ducato vale Con gli assieme Nei crow Provare E mettere Controllare Diciamo Dei regni Cuscinetti Così da avere Questo vincendo Meno male Che è Più 6 Quindi creare Varie Matrimoni Con potenze Minori Oppure Procronare L'impendenza Di molti Regni Sono Le tre Via Uniche Per Poter dire Di Ok Siamo Conquist Per fare Nesseremo Nei crow Perché è Molto difficile Penso Come Obiettivo Non molto Difficile Ma Come dire Lui Ci odia Ci penseremo Dopo Lui va scappando Andiamo a prendere Questi qua Ok Noi andiamo A sardana Perché Girono Non hai vinto Girono Scusami Cosa Girono Più Abbiamo preso Tutto il controllo Dalla Contea Cos'altro C'è Girono Scusami Cioè Veramente Ma veramente Girono Incredibile Iniziamo a conquistarlo 1% Barcellona Che Mi è venuto Anche una guerra Scusami Ah mi controlla Questa parte qui Alta ragona Sono loro Sì Alta ragona Va bene Qui ora Rimazziamo per bene 8% Ancora qui 8% Con calma Sta crescendo 24 Perché sono 3 Sembrava un po' Lente le cose Ok Qui siamo Due mesi Perfetto C'è La liberiamo E poi Wally Hansel Prendersi come un sindaco Lo liberiamo Facciamo un po' Di soldi Facciamo una stack qui C'è Cannavarra Perché Cannavarra In guerra Scusami È neutrale Perché Cannavarra In guerra Se posso sapere È in guerra Con Liberty War Con chi Con loro Con il duca Di Vizcaia Comprimenti Un'altra guerra Vinta Che ancora Mi da 61% Perché Girona Perché così poco Scusami Noi che stanno facendo Loro Sono qui Mi ha preso qualche città Non lo so Ransom Unchatted Ma che hanno fatto Per Non capisco 1139 uomini Non ne vedo Nessuna parte Sinceramente Quindi Perché Sennò Tutte due Sono inattaccabili Cannavarra 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 11 mesi Ok Ma hai 4 mesi A prendere Cannavarra 4 mesi Un'altra perk Dammi questo Sia la ricchezza Che I soldati Molto bene Non è che Se ne va tipo In Provenza Così da nulla Che spendi La cosa Allora Sono creati Duca del Vesex Ic Cantambria Emilia Frise Perché Questo abbiamo creati Che succede L'Odringer Sta pure qui Leviatano Allora Questo ci da 100 O spendiamo Prestigli Questi Siamo generosi Io potrei Su questo E dai 100 soldi Ci avremo a casa Ok Barcellona È vinta Enforce Di mano E Barcellona Torna a essere Nostra Di nuovo Ora Io voglio capire Qua che cosa devo fare Più di questo C'è anche Serdana Che devo fare Dove sta Allora Sta qui Li devo Riconquistare Stai già preso la Contea Ho già preso tutto Perché Avrei problemi Ce ne va Comprì Comunque Allora Un po' A chi Dai Noi I territori C'è Lui Mio fratello Che è Duca di Badaoz No Per il disciplino Di me È un Fio Maschio Solo Parte la Crociata Però Dicherò Lingi C'è qualcun Altro Diamo un Poco Barcellona Che è Una bella Città Grande Tu Prince Filippo Borgogno Se lui Sia L'erede No È il Fratello Forse Prince Filippo È Fratello Si Del re Quindi Grande Title Barcellona Il Ducato Non c'è Il Ducato Dobbiamo Creare Manezione 250 Creiamolo E lo diamo A lui Grande Title Il Ducato Di Barcellona Ok Io qui Ancora Aspetto Intanto Però Mettere Una truppa Qui Ah Stanno Arrivando Ok E Arrivano Dove Sto Attaccando Che cosa Dove Sto Arrivando Le truppe Quelli Possono Anche Battermi Ah Siamo In Superità Arrivano Girona Che Vado I Uomini Non so Dove Vero Quegli Uomini Oh E' una guerra Sera vinta Enforce Demand Ciao So Be Hit E allora Questa città Non sono 100.000 Non sono 105.000 Lui solo Quanto ne ha I bambini 7.000 Forse Forse Questa Crociata Si può Dove vai Forse Forse Questa Crociata Si potrebbe Vincere Ragazzi Se C'è Un po' Di fortuna Ci vuoi Però Quindi Stiamo Rivando Noi Però Il mio Non lo vorrei Nell'armada Scusate Stanno scappando Ok E anche Questa L'è vinta Enforce Demand So Be Hit E tutti Questi Penso Passino Ah Tutti e Due Vanno Perfetto Usa Pesa Perfetto Riunione Le truppe Vediamo un po' I nostri Allora 32.000 Ah Siamo qui Ok Lui è un 24 Lui è un 15 Eh Giorgesta Più Migliore Ma va bene Così con loro 24 Un 15 Che è Guerra Santa E Sì Cosa Ah Ah Mi sembrava Allora Anche loro sono Dipendenti Perché Non è Dipendenti Così a nulla Allora Si parte ragazzi Questa bella Crociata Dino un po' Se stavolta Se stavolta Ci si riesce A vincere Lo sono qui Le truppe Forse sono queste Queste Quasi 7.000 Non ci stiamo Quanto L'armata Quanto ci sta Arrivare qui Due mesi Penso Arrivano anche Gli altri No Lo sono qui Allora Qua ci posso Vedere Fare prestigio O Corso Dai Perché mi toglie Ma ha caricato Oh Di 500 Di costruzione Questa è buona Con la prima Rischiarcela Ma Sempre Buoni Tratti Spero Non per Spare Troppi soldi Che avevo 1.000 E Io ce l'ho Già preso Tanto Speriamo Questo Tutti sono qui Che so Crocetti Italiani Ok Cioè Ovviamente I miei Vassalli Sono dei Grandissimi Idioti Perché sono Tutte Nelle zone Da un Dobbostare Allora Tu mi Annetti Prenza L'imperio di Francia Si può Sare tutto L'imperio di Francia Vedete Già la Francia Tutto questo Ha preso E' una cosa Buona Perché Se facciamo Tutte queste cose Poi Distruggia anche Gli attitudini Imperiali Avere solo Francia Comunque Noi stiamo Arrivando Lo Stiamo Cioè Non sono qui Ma è che sono qui Questi E fassi loro conquiste Felicitazioni Ok Cosa sono altri Il 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 Sono Lì Che sono arrivati 38.000 Mamma mia Chiamavano Da quelli Ottimo Giorni Ci facciamo Conquistare Tutto 38.000 Non so 4.000 Cioè Rieschiamo A Attaccarli Prima che si uniscono Con altri No Stami qui Che la vai A morire Io non vedo più Il trip nemico E adesso Perché qui È tutto chiave Perché non vedo Il trip nemico Non vedo Non sono scappando Non sono Nostri amici Forse Oh Arrivano gli altri Perfetto Che siamo tutti uniti Ti confronto Perché voi Ok Arriva anche la porcogna Quanti uomini sono qui O siamo circa 80.000 È splendida questa cosa Non sono 38.000 Sono Diminuiti Tutto Di un botto 160 Sono proprio la città 160 E sono tutti nostri Vediamo un poco Intanto ho finito qui Una task Penso No Ho letto Città nei francesi Ma ho pensato Vabbè Lasciamo stare Lo scappo Ovviamente Siamo noi Il gruppo più forte Per fortuna nostra Noi siamo 34.000 Siamo 34.000 Perché Ok Andiamo ad Acri E nostra Acri No Lo sono Lì sono tantissimi Loro E il sole Andiamo qui Aiutare loro Dai eh Vediamo un po' Se riusciamo A essere forti Stavolta Dai su 30.000 Un po' di giorni 29.000 Siamo ora Ok Eh Dio sarebbe E' bella Sentita Tutta conquistata Forse Ma no Tutta conquistata Sì sì Ma anche Tutta Con Banias Ok Lo sono lì Che Vediamo come Prendono tempo Due mesi Abbiamo provato Di attaccare Mi sa Un'altra Per che Divento Amministratore Questo mi dà Cosa mi dà Vediamo un poco Mi dà Uno di Una zia Tre Stewardship E Opinione Più 5 Vassali Ottimo Direi E Motulo Steward E poi ci mettiamo No Lui no Per favore Uno buono Di 5 Mettiti su Chiamiamo Lavorare Per il nostro Futuro Allora Allora Li stanno attaccando Quindi Non posso Riusciamo a scendere Con tutto Ecco Ci seguono Ci seguono Gli alleati Ci seguono Gli alleati No Stanno scappando Ecco Sono molti Più di noi Quindi Seguiamoli Se non Moriamo Prima Ci stanno Seguendo Ci stanno Seguendo Vi prego Aggiungetemi Io Io Vero Prendere la Capitale Scusami Sono offesso Che io Non faccio Niente Lo fanno Tutto Si diverto Non qui Stare Grazie Sono liberate Ma le azioni Non ci sono 6 mesi Addirittura Con le armi D'assedio Non so Quanto mi convenga Io direi Di attaccare Ma non sono Qui fermi Perché Dai Siamo forti Uniti Attacchiamoli Dai Su Su Ma come scappano Questi Poi non arriviamo Però io Seguirei questi Sarei con quelli forti Sono insieme agli altri Oltre mi faccio fregare Come ogni volta Che C'è una battaglia Dove 28 giorni Ok 7% Però se non facciamo guerra Ragazzi Non si fa niente Ho pochissimi Uomini Non sono nemici Ostili Non sono pure ostili 11.5 Oh arrivano altri Qua belli grossi 8.000 Uomini Questa combattendo Arrivano qui Molte truppe Andiamo a fare più vittorie Possibili Se è possibile Stato per il gioco di parole Per la ripetizione Anzi di parole Un paio di giorni Per Gaza Ok Non si Sono sconf Grandi Grandi quelli Che fanno la guerra Tutti soli Tutti soli Ah Chi sta qui E loro stanno scappando Nuffe Fermati Fermati 50.000 Cosa Maezione Siamo insieme a tutti questi Riuniamoci tutti Lo so Non è il grosso Le truppe Sono scomparse Allora Pede l'opinione Lasciamo learning Che mi serve Allora 88.000 8.000 Sono sempre così pari E i nostri truppi Sono qui Però il numero maggiore Stiamo qui con questi Decidiamo qui Di questa conquista Non sono assieme No Molte città Se riuscissimo A convertì Converge Tutti i nostri attagli Oddio No 5 minuti Non posso perdere Diventa Drunker Va Ok Una città Presa Se tutti noi Ci uniamo qui E li attacchiamo 6.7.000 Esempio Per dire Ok Stanno arrivando gli altri Arrivate Perché se muoio io Moriamo tutti Quello sapete Vero Perfetto Vittoria fatta Scappiamo qui Ci hanno preso 7.000 Ci stanno ammazzando Ma nessuno ci aiuta Grandi 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 Sono 9.000 uomini Grandi Complimenti Complimenti Ai Perché non presto La metà Non presto Non mai Perdonosi tanto Loro Non è giusto Questo Allora 50% Perché hanno preso Una battaglia Importante Annablus E sono 6.9 a perdere Però se ne ha per noi Che facciamo quella grande Non fanno niente Non fanno niente È incredibile Dove stanno le forze nuove Sono tutte qui Uniamoci dai Su Andiamo a dotarli Su Tutte Aiutiamoli Stai Siamo tantissimi Dai Stiamo perdendo Mi sa Arrivano altri Abbiamo perso Puglia La crociata Ragazzi The fight Ok Abbiamo perso La crociata Quanto si combatte Però non siamo Di 3.000 Non penso E infatti Siamo 10.000 Allora Uniamo la troupe Che ha assunto Velle divise Non è tanto buono Perché non posso unire la troupe Scusami Ah non ci siamo Già 10.000 Ok Abbiamo qua I nostri amici E li perdono Giustamente Qui ammazziamo C'è una piccola Perché così tanto Mi dà Guarda Meno 31 Una sola battaglia Meno 31 Perché così tanto Ci tolgono Loro ogni volta Andiamo qui Forza Uniamoci Uniamoci Dai Sono più forti Dobbiamo vincere Ci hanno fermato Lì ci hanno fermato Grazie al cavolo Un'altra Crociata persa Dove sono i miei uomini Dove sono i miei uomini Dove sono i miei uomini Sono scomparsi Grandi Grandi Sono scomparsi tutti E allora Mettiamo sempre Tu mi fai il controllo Qui Avaluare Poi Tu mi metti Un richiamo Delle rupe Qui Questo è il punto Più Più vicino All'est Diciamo All'oriente E Rice O Lì Quanto ci stiamo Tre mesi Lui Ne posto Da mia famiglia Non so perché Veramente Faccio pericoloso Qual è Sono tutte Pericolose Per giù Lei Assummo un membro Che è il duco di neustria Maledetto Borgogno Ok C'è il trono imperiale Il tur Agnes Qui Agnes Ah perché Sua madre Maledetto Maledetto C'è veramente La cosa è assurda Stiamo un altro perk Facciamo Taxman O Facciamo così Qua Abbiamo Mille Ducati Mille Ducati A meno questo Tante guerre Vinte E persi Utilmente Siamo già Meno 23 C'è ribattai Quanto abbiamo perso Ribattai Solo due guerre Meno il 2% Meno il 20% Cioè Da metà Solo da quelle guerre Che per me Scusate ma è in giustizia Qui facciamo un po' di soldi Facciamo un po' di soldi Dai su Qua richiamo le truppe Ci siamo Qua ne meno Solo 50 Le miro 10 tu Oggi su che facciamo Dai 10 Tire Va bene 35 Aspettare un pochetto Quanti prigioni Più c'è Mamma Quanti abbiamo ragazzi 2.000 Ducati Guarda quanto ci sta Ma sono già tutte fatte Solo 2.000 Ma no Dai solo lì Dai 50 da questo Lui fatto Gianan Va bene Da 7 su 50 Ok Altri mettiamo Tassi un po' più alte Piccolo Dai E No La quinta è nella Barcellona No Adesso me la tengo io Quindi stiamo cadendo Tutte le truppe Ci uniamo qui E allora Vediamo un po' Quante truppe 22.000 abbiamo ora Solo 22.000 truppe Vediamo quanta Mila eravamo Loro sono 44.000 contro 80.000 Il Principino Dove sta Sta lui qui E allora A prendere lui qui Solo lui Non sarebbe male Sai che quelli di qui Sono tanti Se riuscissimo a catturare Il Il Grande sultano Sarebbe Un gran colpo Ma Prince Charles Ok Non mi interessa Perché lui Saree Vedo Uniamo Allora 17 14 13 Il peggio è lui C'è qualcun altro Io no Alcuna Capita speciale Magari Ok E questi qua Questi 30.000 Partiranno Per prendere La capitale Che poi Passano No davvero Scusami Ci stanno Tre mesi E allora ragazzi Però fino a qui Siamo di oggi Con la riconquista Di Barcellona Che è importante E poi Vedremo Cosa fare Oltre Il Stato La La Scusami È quella di Attaccare Da Ninja Forse Perché È vero Ha tanti Editori Se Ringio Come Messa Sono Tutti Inferno A noi Molti Inferno Anche La Milchina Stessa Viking Insomma Sono Molto Deboli Qui Poi C'è la Capazza Che Bisanzio Quello Che Potente Quanto Noi Forse Un po' Di Più Però Non Lo so Non Si deve Attaccare Loro In Italia Lasciamo Una Stata Che Non Ci Interessa Quindi O Ci Concentriamo Tutto Sulla Zona Della Germania Quindi Forse C'è la Ricreta Come Impero Carolingio O Punta L'Inghilterra Rendere Mio Fratello Prince Charles Mio Zio Re L'Inghilterra Non serve Male Come Mos Lui Cos'è Enforshire Quindi Si Sta sempre Lì Eppure Lui C'è More Non serve Male Il Bon Benoit Perché Sono Cattolici Francesi Non serve Male Però L'idea Di Creare L'impero Germano C'è Come Impero Carolingio Penso Che Appena Conquistiamo Quest'azione Qui Si Bloccherà La Direzione Quella Che Ci Portere Un po' Carlo Magno Penso Sia Questo Non serve Male Io Mi Super Crudo Si Perdo Stress Perfetto E Poi Call Hunt Lascio Stagaccio 277 Così Già Siamo Bele Tranquilli Noi Siamo 27000 Uomini Che Stanno Partendo Da Cagliari Ci Costa 178 Per Ma I Ma Il Fatto Che I Mio Vassalli Faccio La Sola La Crociata Da Soli Mi Rompe Mi Da Tanto Bastido Tanto Bastido Perché Ripeto Alla Fine Sono Mio Vassalli Date A me In potere Mio Figlio Che Ci Fai Lì Vabbè Ragazzi Fino Vi lascio Un like A Commentare Di La Vostra In Cosa L'avete Fatto Iscrivete Canale E Attiva Campanellina Così Per Sare Di Più Sul Lavoro E Da Questo Ragazzi Al Prossimit Terry Passa Chiudo